come vivere con un narcisista per rispondere a questa domanda dovremmo inquadrare il narcisista ma dobbiamo considerare che non esiste soltanto il disturbo narcisistico della personalità esistono anche i tratti narcisistici in chi non ha questo disturbo tuttavia o che parliamo di ritratti o che parliamo di disturbo chi vive con un narcisista non ha vita facile questo perché il narcisista vive esclusivamente in funzione di se stesso lui vede il mondo solo dalla sua prospettiva lui ha una visione egocentrica delle cose esattamente come un bambino piccolissimo il quale vede gli oggetti e non comprende che esistono altre prospettive il narcisista soprattutto nella relazione vede le cose dal proprio punto di vista della propria prospettiva e non è in grado di comprendere che esistono altre prospettive che possono essere differenti dalle sue quindi il mondo che sta intorno al narcisista è vissuto solo ed esclusivamente come un qualcosa che per lui è necessario ai suoi bisogni tutto ciò che fa il narcisista nei confronti dell'altro è perché riesce da questo a ottenere dei vantaggi proviamo ad immaginare cosa questo può portare all'interno di una relazione infatti chi vive con il narcisista si annulla completamente perché perché cerca con affanno di farsi riconoscere dal proprio dalla propria partner narcisista ma dall'altra parte questo riconoscimento non avviene avviene solo ed esclusivamente se questo può portare dei vantaggi personali il narcisista non ha empatia non è in grado di comprendere che l'altro sta soffrendo a causa del nostro comportamento ed è raro che un narcisista si presenti in terapia perché come abbiamo sempre detto per risolvere un problema è necessario che questo problema si veda lo si riconosca il narcisista non lo riconosce lui pensa che sia l'altra persona ad avere dei problemi ecco perché vivere con un narcisista non è affatto semplice e il più delle volte anche chi vive con il narcisista non si accorge di questa cosa e pensa che sia un problema legato alla comunicazione o che sia il compagno la compagna del narcisista ad avere forse una incapacità di aver compreso l'altro quando in realtà le cose non stanno così il narcisista a volte si finge vittima ma è il vero carnefice certi comportamenti sono considerati come cattivi sotto certi aspetti lo sono ma sono la conseguenza di una disfunzione perché il narcisista ha bisogno di aiuto un aiuto che lui non riconosce e che non cerca quindi per rispondere alla domanda iniziale vivere con un narcisista significa vivere sempre in uno stato di tensione di angoscia nel tentativo di gratificare l'altro perché è questo che cerca il narcisista quindi per uscire da questa relazione innanzitutto bisogna riconoscere il problema ma lo deve riconoscere che vive con il narcisista perché lui è difficile che riesca a riconoscerlo si può tentare o la via del terapeuta o la via purtroppo dell'allontanamento